La nostra azienda principalmente si basa sulla produzione di mela rosa dei Sibillini. Con i fondi del PSR abbiamo realizzato un capannone in cui per metà c'è la lavorazione grezza della materia, quindi stiamo parlando di mela rosa dei Sibillini, e l'altra metà il laboratorio per la trasformazione. Con i fondi abbiamo anche realizzato un impianto di mela rosa dove abbiamo impiantato circa 3.000 piante e poi abbiamo fatto la copertura antigrandi e antinsetto proprio per coprire queste piante dagli insetti. Infatti sono totalmente biologiche. Abbiamo realizzato questo laboratorio proprio per fare un'intera catena, cioè partiamo dalla materia prima per poi arrivare alla trasformazione. Ci occupiamo soprattutto della trasformazione di frutta, ma in futuro pensiamo anche alla verdura. Adesso ci stiamo mettendo sul mercato con una linea di cosmesi. Abbiamo deciso di fare una linea donna e una linea bambino proprio perché le mela rosa hanno tantissime proprietà, sono ricche di proprietà e questi cosmesi vengono fatti soprattutto con la buccia. Abbiamo deciso di fare una linea di cosmetici a partire dalla mela rosa. La mela rosa ha le principali caratteristiche proprio sulla buccia e quindi dalla buccia procediamo a ricavare un estratto e poi questo estratto viene utilizzato per la linea di cosmetici. Facciamo sia una linea adulti che una linea bambini. C'è il bagno doccia come anche la crema corpo, crema viso perché ha delle caratteristiche antiossidanti e anche anti-age. Viene studiato dall'Università di Camerino e poi noi grazie allo studio siamo riusciti a ricavare questi prodotti.